Ciao a tutti, bacione enorme dalla vostra amica come ogni lunedì, play with me Allora, questa è la settimana che va dal 27 al 3 Entriamo in luglio, oh se passa il tempo, mamma mia Allora, poi vabbè, fatemi saluti e poi vi farò vedere appunto due cosine che mi sono arrivate Aspettate che sposto di qua, ma dopo E adesso andiamo a vedere nella mia agenda, ho già preparato qua La decorazione di questa settimana Vedete questo appunto Paper tape qua tutto dorato con le stelline Eccolo qua, l'ho già preparato, aspettate che adesso Un pochino, perché la decorazione è un pochino stile anni 90 Ecco, vedete qua c'è musica a setta, pattina a rotelle E un po' così, ho detto dai facciamola, che non l'ho ancora fatta Prima di tutto andiamo a scrivere I giorni, ho preso questa qua verde, non lo so, mi andava questa qua così La stabilo, questa qua un pochino colorottagno sembra Allora, 27 lunedì E se ricomincio a lavorare Poi 28 martedì Lavoro 29 Mercoledì E un lavoro 30 Giovedì In questo mese ne abbiamo 30 Faccio 1 venerdì E voilà 2 sabato E poi Il 3 è domenica E il mio sperato e meritato Relax Cambiamo a scriverlo con queste letterine qua Allora, vediamo un attimino Andiamo a cercare la R Ce la posso fare, la troviamo, Monica, la troviamo Eccola qua Eccoci Poi la E Questa qua Dai carina La L Voilà La A Stavolta ci sono, ci sto L'ultima volta ho fatto fatica un po' a starci Infatti una ragazza di voi mi ha scritto nei commenti Parti dalla X E vai indietro Hai anche ragione Però stavolta ci sono stata comunque Sono partita normale Qua la X Dove essere un po' così un po' particolare Non so sperare Ho meritato Relax Spero che si veda bene Sì dai Guardate che carine Ok E adesso andiamo ad attaccare Gli sticaronzi Che questi qua sono di Teddy Gli ha regalati Sharon Che mi ha regalato tanti Siter E andiamo ad attaccare Wow Allora va bene I pattini Sono un classico Musica 7 Bellissima Poi Questo Bellissimo Quei contenitori che andavi Una volta Tanti anni fa Tanti anni fa c'erano Adesso non so se ce ne sono ancora Forse magari da qualche parte ancora Magari in qualche zona di mare Ok Fuori nei bar Può essere che uno o due lo si trovano Che mettevi mi ricordo La I pochi centesimi Pochi E mettevi Ma anche le lire C'erano Perché le pochi 10 5 Non so Nessuno mi ricordo bene Mettevi dentro Ti avviso le Le cwinga Quelle Che belli Vabbè c'è Chi non ha mai giocato a Pacman Chi non ha mai Scrivetemi nei commenti Giocato a Pacman Scusatemi Poi vabbè Questa radio qua Super fantastica Poi vediamo Vabbè la Coca Cola È un'icona Ormai È la veterana Di tutto Perciò Ci deve sta Giorcetti gommosi E anche questo stile Un po' Gameboy Bellissimo Troppo carine Queste cosine Poi vediamo Cosa ci possiamo mettere Patatine Patatine Le patatine Poi ci mettiamo Un cuoricin Un cuoricin Un po' tutto Stilizzato Lì E poi Dai Ce le mettiamo anche queste Chi se ne frega E poi Questo Ce lo mettiamo qua Tecnologia con tecnologia Tecnologia Ci mettiamo un altro Riccino così E poi Facciamo così Troppo troppo belli Mi ho fatto avanti così Li attacco tutti Mi direi che può bastare Altrimenti qua La mettiamo un altro Qua Così E così adesso è perfetto Dai Molto molto carina Mi piace Un po' così E anche luccicosa Perché c'è questi Tocchi di luce dentro Allora Video Agenda Più saluti Sempre a lunedì E poi in settimana Gli altri video Non perdetevi Iscrivetevi Attivate la campanellina Tatatun Tatatun Come vi dico sempre Adesso andiamo a inserirla In agenda E andiamo a Prendere anche il nostro Divisorio qua Allora così Poi il luglio Ce lo mettiamo in mezzo Perché vabbè Io ho fatto la settimana Così poi Fa niente Il nostro divisorio di luglio Perché ormai si va il luglio Vabbè questa è La nostra settimana così Finisce giugno E inizia il luglio E adesso Andiamo a fare Un pochino I saluti Scusate Ho tutto stotto così Eccoci qua Allora Devo salutare Mary96 Ciao Elisa Santò Ciao Dani Ciao Sara Ciao Simo Ciao Sissi Crietta Ciao Veronica Di tolve Ciao Giada Boschetti Ciao Gavino Ciao Stefano Nomero Ciao Antonia D'Achille Ciao Giulia Veteoli Ciao Anita Sofiglia Mirian Ciao Marina Schenone Ciao Elisa Mesaroli Ciao Martina Ciao Fabiana Martinelli Ciao Sara Espo Ciao Se ho dimenticato qualcuno Come al solito Sotto nei commenti Iscrivete Mi guardate E vi saluto Il prossimo lunedì Adesso vi faccio vedere Queste due cosine Mi sono state mandate Ancora Da Appunto Un sito di Diamond Painting Dp Chiamateli Come avete voglia Voi E appunto Il sito in questione Si chiama DIYdigitalart.com Sotto nell'info box Vi lascio Come al solito Tutto Poi se c'è varia Anche i codici scontro Andate sempre a guardare Tutto che c'è Il link al sito E poi appunto Se ci sono degli scontri Trovate tutto lì Sempre sotto nell'info box E sono queste due cosine La prima È questa Adesso vi faccio vedere Se riesco ad aprirla Non trovo il L'inizio qua Del sacchettino Perché sono Sempre arrotolati E poi non trovo Ah ecco qua Ed è questo qua Ed è questa farfalla Che poi andrà messa Col suo ciondolotto Che io ho già fatto Anche un altro Occhiappasonni Più o meno così Poi ho fatto il gecko Che poi vi farò vedere Quando faremo Finalmente l'home tour Vi farò vedere Tutto dove ho attaccato Tutti i miei diamond panty Qua c'è tutto sempre Il suo kit La cera che è qua sotto Questa è la catenella Che va attaccata qua I suoi drill Che vanno tutti appiccicati Sulla cartellina Insomma C'è tutto il suo kit E poi Qua ancora il suo kit Per quest'altro Che ho preso Sempre con tutti i suoi diamantelli Ed è questa scatola qua E sono le scatole Che io uso tantissimo Adesso infatti Quelli che mi stanno arrivando Poi devo metterne anche due in bagno Hanno la sua Dietro Scusate E' uscito un po' di carta E questa è la scatola in questione Così Si è un po' di sporco Ma è Pezzettini di cartone Dopo andrò a togliere Qua togliete sempre La pellicola Qua appiccica Andate ad attaccarci Tutti i vostri Drill brillantini Qua Che comunque Non so il numero L'ho attaccato E niente Poi queste sono scatole Comune Che io sto usando Ci metto di tutto E le prendo sempre più che volentieri E niente Dai Con questo Io vi mando Un bacio enorme Vi do appuntamento La settimana prossima Col premiettemi Buona settimana a tutti E settimana con gli altri video In compagnia della vostra Anika Perciò non mancate E vi aspetto numerosi Iscrivetemi Sono qua a rispondervi Insomma Buona settimana a tutti Ciao dalla Anika Ciao ciao A presto 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 A presto